Secondo Kevin se versassimo della benzina dentro i canestri dell'acqua dell'autostrada questa prenderà fuoco Versiamo un po' di benzina Sembra di no Invece si Mito confermato E oggi signori vedremo non lo so quanti sono da 40, 50 non mi ricordo Miti che mi avete consigliato su Instagram quindi se ne avete qualcuno lasciatemelo nel profilo che trovate in descrizione Oppure bloccato nei commenti Ma bando alle ciance prima di cominciare mi raccomando un bel mio piace Per evitare che oggi esploda il gioco cosa che insomma ormai è all'ordine del giorno Andiamo col prossimo che me lo lascia Lucas e benissimo con Michael su questo pontile durante la pioggia Proveremo in fondo un pescatore mi sembra sulla sinistra e un gommone Rubando questo dovrebbe attivarsi una missione strana secondaria una roba del genere Era qua se non ricordo male non abbiamo il pescatore però magari il gommone ce l'abbiamo No non c'è neanche lui Prendendolo dovrebbe tipo attivarsi una missione in pratica un video dove uno andava in mezzo al mare e succedeva una cosa strana Chiaramente questi video non ve li posso mostrare per problemi di copyright Comunque mito falso non è vero sono montaggi o cose fatte con server 5M Andiamo col prossimo che me lo lascia Maria Se chiami questo numero comparirà una supra una cosa abbastanza strana Trucchi in elaborazione però No è una come Quindi mito falso Andiamo col prossimo che me lo lascia Silvio Se attacchi del C4 dentro la portiera di una Diocodette e ti chiudi dentro Attivandola non ti farai nulla Nonostante l'esplosione Abbiamo la Diocodette ovviamente è una macchina blindata che resiste a destra e manca Devo lanciare del C4 all'interno della portiera Praticamente mi arriva il plastico Perfetto Ad altezza inguine Qui adesso non sono immortale La macchina non è immortale Non dovrei morire in alcun modo Non proprio Oh signore io qui ci rimango Ma prima Ti piacerebbe avere la maglietta della tua squadra di calcio preferita ad un prezzo davvero assurdo? Se sì Molto bene FCvaglia.com è esattamente quello che fa per te Troverai di tutto Non solo il calcio ma anche divisa NBA e abbigliamento della Formula 1 E ragazzi sono di una qualità che è veramente incredibile Qui troverai tutto quello che desideri a un prezzo veramente imbattibile Il materiale è molto buono Come vedete qui è una maglietta della Juventus, del Napoli, del Milan e del Real Madrid Ma ci sono ovviamente anche tutte le altre squadre di tutti i campionati esistenti Poi ci sono le scarpe, i pantaloncini Insomma tutto ciò che riguarda l'abbigliamento Inoltre possiamo aggiungere alle magliette da calcio tutte le varie toppe possibili Dalla Champions, all'Europa League, alla Supercoppa E per quello che riguarda la consegna mi è arrivato tutto più o meno in 7-8 giorni E in più signori Con il codice coupon Flane ti aspetto un vantaggio esclusivo Ovvero uno straordinario sconto del 10% su tutti i tuoi acquisti Tra l'altro il sito fa anche molto spesso degli eventi Con magliette gratuite eccetera Quindi controlla nella descrizione Visita dunque fgmaglia.com oggi stesso Con il link che trovo in descrizione Assieme troverete anche il loro canale Telegram Per avere tutte le informazioni a 360 gradi Il prossimo è di Ibra E se chiamo questo numero dovrebbe comparirmi un'esplosione sulla testa E il telefono dovrebbe cambiare Colore Questo mi sembra, l'ho già testato anche la settimana scorsa O non mi ricordo, una roba del genere Comunque sì Ma andiamo col prossimo che me lo lascia addirittura Sergio Mattarella In questa zona in Palomino Island C'è un buco nella mappa Dove puoi sparare e lanciarci oggetti attraverso Allora Palomino Island dovrebbe essere più o meno in questa roba Il punto è che dallo screenshot Non riesco a capire praticamente nulla Perché credo sia ruotato Non dovrebbe essere così Palomino Island Tuttavia essendoci un'insenatura potremmo essere qua Qua so che c'è tipo una sovrapposizione dell'acqua sbagliata Quindi potrebbe essere in realtà Ora non mi ricordo di preciso la posizione Ma sono sicuro al 98% Dell'esistenza di questo buco Che in realtà è tipo un triangolo storto Una roba simile Te lo metto punto interrogativo Però dovrebbe essere confermato Andiamo col prossimo che me lo lascia Brian Vicino a Rockford Hills c'è un palazzo E se lo scavalchi Ti puoi nascondere all'interno Allora il problema è che a Rockford Hills Non ho nessuno screenshot di palazzi Ce ne sono tanti Magari è questo qua Che è un po' più alto E non so dove debba scavalcare È molto sintetica la spiegazione Quindi ti metto punto interrogativo E andiamo col prossimo che lo lascia Jeremy Se giri ubriaco Accanto a un poliziotto Questo ti arresterà Chiaramente non mi vado a mettere la mode dell'ubriaco Perché non cambierebbe nulla È semplicemente uno stile tra virgolette Noi vogliamo testarlo In un modo efficiente Quindi mana la bottiglia Cosa che non mi fa fare tra l'altro Allora in teoria dovrebbe essere la stessa cosa col bonk Perché è tutto invertito in questa casa? Vabbè prendiamo il signor De Santa Tanto si può sbronzare anche lui È giunto il momento Lasciamo perdere lo spider drone Che dovrebbe essere la bottiglia di whisky Il problema adesso non è tanto sbronzarsi Ma è riuscire a beccare il poliziotto nel momento preciso Perché la sbogna durerà all'incirca penso 5 o 6 secondi Quindi se io non trovo un poliziotto in quell'asso di tempo Devo sbronzarmi un'altra volta Comincia ad avere un attimo la visuale delle grandi occasioni Guarda che ghigno Bro sono sbronzo come la m***a Sono ubriachissimo Non gliene frega niente Tra l'altro mi sembra che la sbogna su Michael duri molto di più Quella di Franco nel giro di pochissimi secondi se ne va Meglio andiamo col prossimo Che me lo lascia Stefano Se vai sul tetto dell'autodromo su GTA Online Le persone moriranno a toccarlo Vorrei provarlo al punto che non testo miti online Perché come ho già detto mi ci vorrebbe troppo tempo Tra un mito e quell'altro Quindi punto interrogativo Che magari un giorno facciamo un episodio interamente dedicato Andiamo col prossimo allora che me lo lascia Aurora Ma Michael non si riprende più Il mito si riferisce alla missione dove praticamente Amanda impasta il pane col tennista Cosa succede se si ferma il maestro di tennis prima del punto di arrivo Questa cosa l'ho già testata o anche uno shorts a riguardo Diciamo che il fulcro della missione è la macchina Quindi ci possono essere anche delle situazioni dove tu blocchi il tennista Lui se ne scappa da una parte e la macchina va dall'altra Ma tu devi comunque inseguire l'auto Quindi in realtà non succede niente Cioè dopo un po' comunque la missione è settata Che teletrasporta il personaggio sul punto Se non l'ha ancora raggiunto Andiamo col prossimo che me lo lascia so scemo Vicino alla spiaggia di Forzancudo sotto all'acqua C'è una tipa con i piedi nel cemento Se la porta in superficie e le dai una spallata Si rianimerà, comincerà a camminare Allora il problema nella tizia sotto all'acqua È che si sblocca in determinate circostanze Allora qui abbiamo Forzancudo Lei dovrebbe essere circa mi pare in questa zona ok Credo ci sia un giorno apposta per trovarla Io l'ho trovata tipo l'ultima volta Penso 5-6 anni fa Poi ci sono ritornato per altri misteri Altre cose non l'ho mai più ritrovata Non sto a spawnare il modello Perché sarebbe diverso in sintesi Comunque il mito dovrebbe essere confermato Anche perché mi ricordo di aver visto Tempo fa su YouTube Una roba del genere Che io infatti qua non so proprio dove cavolo Si è finita la signora Magari qualcuno sa anche la storia Voglio lasciarla nei commenti Ma in teoria dovrebbe avere a che fare Con questo messaggio Andiamo con il prossimo Che me lo lascia Cristiano Se spari al posteriore Dei razzi nei capannoni A Forzancudo Questi si attiveranno Ed esploderanno Dovrebbero essere questi Le ho già provati Se non ricordo male Tempo fa Adesso è meglio sganciare sto coso E sì È molto Molto strano Anche perché io l'ho sempre visti Girare in rotondo E mai volare così Mito confermato Andiamo col prossimo Che non lascia Jack Devo testare se il bro Della banca del prologo È lo stesso Del colpo finale Oppure no Questo l'ho già testato Metterò anche credo Uno shorts Di cui parlavo di questa cosa Tuttavia no Il tizio di Northampton È semplicemente un uomo generico Che si può trovare anche in giro Per lo Santos Tra l'altro Mentre quello della banca Mi sembra abbia proprio il suo nome Sia tizio della banca Tal dei tali Quindi non è lo stesso Andiamo col prossimo mito Che non lascia Stefano Negli aerei grandi Dell'aeroporto C'è un radar Che in realtà Non segna in modo corretto Questo è il radar In terza persona Io volto a sinistra E lui ovviamente Pende a sinistra Ma se andassi in prima L'aereo girerà direttamente a destra Senza senso Destra va a sinistra E viceversa Mito confermato Andiamo col prossimo È un video che mi ha lasciato un ragazzo Purtroppo mi ha crashato un Instagram Ho perso sia il messaggio Che il nome Però mi ricordo Quello che ho visto Ovvero praticamente Una volta ucciso Michael Era possibile trovare la sua tomba Al cimitero Precisamente Andando da questa parte Tuttavia qua non ci sono mai state delle bare Anche queste sono cose create Con 5M E non succede esattamente niente Anche perché Michael Non si sa in realtà Che fine faccia Quindi mito falso E andiamo con il prossimo Che me lo lascia Marco Praticamente Se metto 25C4 Sotto al gonfiabile Dell'autosalone Ovvero questo Se le fai esplodere Tutte in una volta Il gonfiabile Si allungherà tantissimo Siamo tipo una roba del genere Perfetto Vamos Grande esplosione Confermato Andiamo con il prossimo E di Alberto Si riferisce sempre Al numero di prima Dove telefonando Il telefono diventerà Bianco e nero Eh si mito confermato Andiamo con il prossimo Ancora che me lo lascia Dedeg I poliziotti È più una domanda Hanno munizioni infinite Questa cosa è molto interessante Quindi noi per l'occasione Faremo una roba Di questo tipo Prenderemo un poliziotto Lo bloccheremo In modo da Non farlo andare Da nessuna parte Mettiamoci immortali E cominciamo a provocarlo Ci siamo Il bros è arrabbiato Ho velocizzato Il gioco di 500 Ormai sono 5 minuti Che va avanti così Quindi direi che sì Hanno le munizioni infinite Ti è rimasto un po' scemo Tra l'altro Andiamo con il prossimo mito Come lo lascia Giacomo Se commetti crimini O accendi un incendio Nella zona del fantasma Oppure il campeggio La polizia e i pompieri Non arriveranno Allora il punto è questo Che il percorso Per arrivare qua È molto incasinato Quindi i poliziotti Principalmente Non vengono per quello Ma se potessero venire Con l'elicottero Quindi tipo non lo so Facciamo una strage Di 40 persone Più o meno In teoria Dovrei arrivare A beccare Credo 3 stelle Almeno 4 Dovrei attivare L'elicottero E dovrebbero arrivare Ho beccato solo 3 stelle Non gliene frega niente a nessuno Oddio ma qui sono diventati di cemento Che stanno facendo Vabbè Non so cosa sia successo Comunque va benissimo così Beh sì Diciamo che finché sono le macchine Non possono sgamarti Quindi i poliziotti Non possono arrivare E mito confermato Anche perché non è facile Beccare 3 stelle qua sopra Penso sia addirittura impossibile Prossimo video dunque Me lo lascia Francesco Si può andare a Northampton Fuori dalla missione Purtroppo no Senza voto Non si può fare O ci vai nel prologo Oppure nella missione Sempellire l'ascia di guerra Anche se in realtà Credo ci sia un modo Per baggare la missione E avere lo Santos Con Northampton Ma forse ci ho fatto Anche un video tempo fa Comunque no In modo normale Non ci si può andare Andiamo col prossimo Che me lo lascia Alessandro Se tiri un pugno all'aria Di fianco a un negozio Del benzinario Riceverai una stella Cosa molto strana Però ci potrebbe stare Effettivamente perché Loro sono molto suscettibili E adesso dovrebbe spawnare Eccolo qua Quindi allora Siamo di fianco al negozio Del benzinaio Diamo un pugno No Non gliene frega niente Facciamo così Non gli interessa Se tipo lo punto No Zero stelle per noi Un po' mi dispiace Svito falso Andiamo col prossimo Che me lo lascia Guido E devo infilarmi Nella missione Labyrintho di cristallo Qua signori Mi raccomando Un bel mi piace Per evitare che il gioco Faccia la solita esplosione Pakistana Una missione che ha molte stranezze Tra l'altro mi sembra Tu possa andare anche a Forza Ancuda In sta missione Senza avere minimamente le guardie Praticamente Dopo aver picchiato i cinesi Se chiama un taxi Trevor lo insulterà Diciamo il tassista Secondo il mito Dovrebbe dirti di no Tra l'altro è interessante Sta cosa Vedere se Trevor Può ricevere trattamenti diversi Anche da altri numeri Se hai un taxi subito uomo Mi dispiace Non ho il taxi libero al momento Ok esatto esatto Mito confermato Andiamo con il prossimo Sì ovviamente il gioco non esplode Perché la parte più complicata È proprio tornare a quello di prima Niente è crashato anche oggi Ma andiamo con il prossimo mito Che me lo lascia Steve Se spawino un veicolo Presente nell'SP Ad esempio un Benson Ho preferito spawnare un mule Che qua è più normale Da vedere in giro In un luogo molto popolato da macchine Questa è una delle zone Benso più trafficate Se successivamente Uscirai dal veicolo Che hai spawnato Le strade inizieranno A essere popolate Da quella vettura Il mule l'ho messo Però intanto qua di mule Non ne vedo In realtà Non so quale sia Il fattore scatenante Perché questa cosa succede Ma non con auto che spawno io In genere con auto che sceglie lui casuali Cioè più volte sono viste Invasioni di Mesa Invasioni di Bison E robe del genere Intanto abbiamo Un mule che è spawnato Qua non ne vedo altri Diciamo che Uno, due Sono un po' pochini Cioè quando ne vediamo Comunque 6 o 7 insieme Possiamo darlo confermato Ma per me Attualmente Falso Andiamo col prossimo Che vedo che mi ha mandato Dani Dove praticamente Dentro questo customer È possibile Bloccando L'ingresso in questo modo Trovare una BMW Ovviamente no Ovviamente sono sempre Quei video un po' Non so come dirlo No Che si possono trovare Un po' su Instagram Un po' su TikTok Quei video speciali Fatti da persone speciali Prossimo video dunque Me lo lascia Alessio E se chiamo questo numero Dovrei avere soldi infiniti Il video che mi ha mostrato Era molto strano Tipo I soldi erano attaccati Con un Come si chiama Un PNG No Non esistono trucchi dei soldi Andiamo col prossimo Che è di Napo Dove praticamente Sempre uno di quei video strani In questa casetta qua in fondo Dovrebbe essere presente Una Ruiner Rottame Guidabile Ok Era praticamente Posizionato in questo punto Naturalmente quando spawna Esattamente nulla L'unico rottame è questo Che non possiamo Chiaramente guidare Mito falso dunque Andiamo col prossimo Che me lo lascia Flavio È possibile entrare nel grattacielo fib Attivando il trucco Della caduta dal cielo E schiantandosi sul lucernaio Già testato anche questo Un sacco di volte E Mito confermato Prossimo dunque Me lo lascia Peppe Su GTA Se investiamo un motociclista La polizia non arriverà Abbiamo il motociclista Bellissima macchina Tizio investito Credo sia sopravvissuto Sta facendo Quell'imbecile Devo riuscire a seccarle In qualche modo Perfetto E non ho la polizia Mi serve un altro motociclista Perché se lo dovesse uccidere a piedi Dovrebbero darmi le stelle Stella ricevuta E Mito assolutamente confermato Andiamo col prossimo Mito che me lo lascia Creep Praticamente in questo punto Dovrebbero esserci Degli scogli buggati Buggati in che senso? Non vedo niente di strano in realtà Mi sembra sia tutto ok Di conseguenza Mito falso Andiamo col prossimo Che me lo lascia Non ha po' al di Andrea Se chiamo questo numero Dovrebbe spawnare Una limusine blindata Eh no Spawna una limusine Tuttavia Niente blindatura E niente mitragliatrice Andiamo col prossimo Che me lo lascia Lorenzo Un altro numero di telefono Se chiamo questo Dovrebbe spawnare Un'auto blindata Trucco in elaborazione E eccola qui Duke Odette Mito confermato Anche se Se non erro Questa macchina Deve essere prima sbloccata Se no il trucco Non si può utilizzare Vabbè se uno la volesse Senza trucchi Basta andare più o meno qua Mi pare in questo punto E possiamo trovarne una gratis Andiamo col prossimo Che me lo lascia Andri Se su GTA 5 Rubi un aereo di linea Appena atterrato L'aeroporto Il pilota Farà finta di niente E se ne andrà via Fregandosene Allora prima mentre Stavo cercando Di fare il mito dell'aereo Quello con il radar sminchiato Mi era successa questa cosa Rubando il jet Che arrivava da questo punto E mito confermato E' esattamente Quello che ho fatto Ma andiamo allora Con il prossimo mito Che me lo lascia Francesco Se sei un cannibale E vai dai cannibali Questi ti mangeranno Per ti mangeranno Immagino sia compresa La cosa del Ti spareranno Anche perché Loro non si mangiano Tra di loro Ma mangiano semplicemente Gli esterni Devo diventare qualcuno Possibilmente C'hanno le braghe Molto bene Divento quest'uomo Sono un cannibale Mi spareranno Oppure no In teoria si Sembrano infastiditi in realtà Ne frega niente a nessuno I teoria dovrebbero attaccarmi E spararmi come dei pazzi Però se ne attacco uno Mi sparano tutti No no Siamo tutti fratelli Non ne frega esattamente niente Mito falso Andiamo con il prossimo Che me lo lascia danni Dove praticamente Mi ha inviato un video Dove in uno dei cambio personaggi Partono queste scenette Eccetera 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 Trevor non fa niente di strano Credo ce ne sia solamente una E ho trovato anche un video Che mostra esattamente La stessa scena Che lui mi ha mandato Ora i cambio personaggio Ovviamente avvengono a orari diversi C'è da diventare scemi A tirarlo fuori Però il mito È assolutamente confermato Si possono vedere anche Nelle varie compilation Di scene tagliate Di questo tipo Andiamo dunque Con il prossimo Che me lo lascia Grand Theft Auto 5 Ed è un modo Per passare di là Dal bancone Adesso Passare di là È molto complicato Anche perché Tempo fa non c'era Adesso mi pare ci sia un muro Quindi semplicemente Lanciandosi E ragdollando Non è possibile Tuttavia Lui mi dice Che se infilassi Tipo qualcosa qua E saltassi sopra Il classico buco Per entrare dentro Al vanilla No Basta semplicemente Un baller Sia questo che l'altro Nella stessa altezza Che è perfetta Per lo scopo Praticamente Se io dovessi Saltare qua dentro Ok E restassi In questo punto Non devo essere di là Se no cado di sotto E vado nella porticina Della tizia Ne di là se no Cado giù Se io qua dovessi andare avanti Precisamente Mi sembra l'altezza Di questo palo Un po' più avanti Qua dovrei trovare Tipo la struttura Non è così semplice Da beccare Ok Perché qua c'è il vuoto Molto spesso In questo caso Ci siamo riusciti Qui dovrei trovare Una porta fantasma Quindi appena Franco La toccherà Perfetto Dovremmo essere Mi metti per la persona A vedere se funziona Perfetto Siamo di là dal bancone Adesso non so se funziona Anche in terza persona In teoria dovrebbe In pratica non vedo niente Mito confermato Dunque andiamo con il prossimo Io me lo lascio a Lore Se usi il macete Sul giardiniere di Michael Quindi il povero Geraldo Mentre vicino alla piscina Luoterà per circa un minuto Per poi annegare Allora annegare qua dentro È impossibile Quindi Nobel Alla demenza Vediamo se finisci in piscina Così ma che gli è successo Amico Si è rincoglionito Non ho capito che Vabbè Può finire in piscina Per favore Oh Molto bene Ha detto che dovrebbe stare Circa così un minuto Per poi schiattare Ma che sta facendo Ha sembra un imbecille Qua siamo già un minuto Lui è ancora vivo Quindi per me guadagna Una specie di demenza Sconosciuta all'uomo Però non lo vedo In pericolo di vita Di conseguenza Mito falso Andiamo col prossimo mito Che in realtà È lo stesso Però in due versioni diverse Secondo Marco Amico Se verso la benzina Su una pozzanghe Le sparo Questa prenderà fuoco Anche mentre piove Mentre secondo Giacomo Se versiamo la benzina Mentre piove Non potrà bruciare Mettiamo un bel temporale Di quelli importanti C'è una pozzanghe Versiamo la benzina Perché si spaventano Più uno che versa Della benzina per terra Vediamo un po' Nulla può fermare la combustione Quindi Confermato per Marco Amico Falso per Giacomo Andiamo col prossimo Che ve lo lascia Mattia Che è una roba molto strana In realtà Praticamente Sei mischiando con un aero Contro la casa di Franco Questo non esploderà E Vabbè c'è con tutti i posti Nell'acqua Dove ad atterrare Che in realtà Può sembrare niente di che Ma questo aero Ogni volta che mi schianto Contro i palazzi E quelle cose lì Esplode sempre E anche in questo caso A posto Come non detto Mito falso Andiamo col prossimo Perché sto volando Prossimo Me lo lascia Francesca Dopo aver fatto Seppellire l'ascia di guerra Sei con Trevor Prendi una macchina Alla radio Parleranno della missione Allora purtroppo Non ho il salvataggio Per testare questa quest Cioè potrei solamente giocarla Una volta finita Mi ripartirebbe con questo Quindi non lo posso provare Però è una cosa probabile Considerando che comunque Dalle cose che facciamo Durante la storia Possiamo avere riscontri Anche esempio su Blitter Che è una specie di Twitter O di X Chiamalo come vuoi Della vita in generale Allo Santos Ma anche nelle radio I principali Possono parlare Di cose successe Tipo quando saltano Le cervella Del tizio Del Life Invaders O robe del genere Lo metto a punto interrogativo Perché non lo posso testare Ma penso sia confermato Al 90% Andiamo col prossimo Che mi lo lascia Manuele Per vedere questo Devo tornare all'inizio del gioco Vi ricordo come sempre Un mi piace Per evitare il secondo crash Di quest'oggi Perché all'inizio del gioco Perché nella fase iniziale Succedono delle cose strane Ok Nel senso che possiamo avere Magari i figli Che fanno cose Che normalmente non fanno Alla fine della storia Non litigano più Non fanno più disastri Durante invece l'inizio Che siamo proprio Nel fiore del disastro Presidi chiedi soldi Per la droga Si va a drogare nel bagno Si insulta con Jimmy E si possono notare Tante scenete divertenti Una tra queste È Quando la troviamo A impastare il pane Con i suoi amici Oppure possiamo trovarla Con la porta chiusa Anche se in realtà Io so che Jimmy Chiude la porta Tracy Non mi ricordo Comunque secondo Manuel Quando Tracy Chiude la porta Della sua camera Se dovessimo entrare La vedrai fare Delle cose strane Adesso per non avere Ovviamente problemi di censura In teoria le cose strane Succedono sempre Dalle 6 in poi Quindi Dobbiamo andarci verso No facciamo le 19 Allora abbiamo trovato Il suo amico fornaio Pronto con lei A impastare il pane Parisi Vecchio bastardo depravato Ti odio Che brutto trattamento Tracy Che riservi al tuo vecchio Che comunque Entra lo stesso In camera tua Che è successo Non è questo Che però diceva Manu Lui diceva Quando c'era la porta Già direttamente chiusa Al nostro arrivo Che è una cosa Ancora più complicata A parte che non so Nemmeno se lo possa fare Come ho detto prima Riproviamo Ci spostiamo E ritorniamo qua Tentativo numero 2 Un altro È un'autostrada Vero vuoi stare a guardare Che orrore Tracy sei una mignotta Un po' di rispetto Però per tuo padre Ma ovviamente Come si dice La mela non cade lontana Dall'albero Dalle madri Dalle figlie Tentativo numero 3 Che spero non sia ancora No Tentativo numero 4 Solitamente do circa 6-7 tentativi A queste cose E c'è la mummia Succede Tracy Che fa? Sta sboccando Ma ti trombi 40 persone diverse La settimana Per forza Andiamo con il quinto Tentativo Sento il contenuto Nell'aria Entriamo Non c'è nessuno Porta chiusa In questo caso Il gringo Scolè all'interno Non l'abbiamo visto Ma ti è diversa Non è A fumare davanti alla porta Ciao Tracy Che fai Ti privi del tentativo bonus Finale Ovviamente no Eccoci qui Porta ancora aperta E niente da fare E signori A sto punto Il mito Lo metterei falso Quando chiude la porta Si fa una scena diversa Rispetto a quella Quando c'è anche il tizio Però è semplicemente spostata E signori Questi erano anche I miti di quest'oggi Io spero che questo video Vi sia piaciuto Se ne conoscete uno Lasciatemelo su Instagram Come sempre Fatto questo Direi che possiamo Vederci con un prossimo video Aia